Quinto recuperando un break di svantaggio nel quarto e annullandogli due match point, poi la vittoria su Jasiri e l'incredibile successo su Andy Murray, 6-4. Cerca la risposta dentro la riga di fondo, il problema è riuscire a essere incisivo con questo colpo. Salta è riuscito a prendere la rete, però cede il punto, 1-0 Federer. Ecco qua, passante, Sverev non arriva neanche alla riga del servizio. Per giocare la prima volée, ed è questa la differenza rispetto a tutti i giocatori nel circuito. L'anticipo della risposta dello svizzero. Ancora obbligato a fare una prima volée dietro la linea del servizio, proprio la differenza con tutti gli altri. Subito palla break. E da lì per forza, con una palla così bassa, devi cercare soltanto la profondità, non puoi trovare l'angolo, non puoi essere incisivo con quella prima volée. E lo passa. 2-0. I giocatori permettono di adattarsi a qualsiasi avversario e a qualsiasi superficie. Quest'anno abbiamo detto che qui in Australia questa superficie è molto rapida. Abbiamo detto qui una bellissima volée di Sverev. Mi ricordate un po' Gianluca Pozzi su quest'ultima volée. Che era un esperto di erba. Con molta pazienza Federer si fa spazio. Sotto 3-0 Mischa. Di nuovo costretta ad abbassarsi come se si dovesse allacciare le scape. Stessa palla. Stessa fine del punto. Anche il lob. 0-40. 3 palle del 4-0. Non lo fate qui. Una bella volée bassa ma non può nulla su questa fucilata di rovescio. 4-0. Federer. Sverev che ha provato a testare la risposta di diritto di Federer. E niente da fare. Guarda com'è basso, com'è compatto Federer. Questo passante che sembra facile ma non lo è perché insomma devi riuscire a metterla così perfetta nell'angolo. Perfetto anche l'equilibrio saltando un pochino all'indietro su questo smash per Federer. Non ha proprio il tempo di organizzare. Altro turno di battuta a zero. Il parziale di 20 punti Federer, 5-0. Il problema è che questa prima volée con Murray era messa nell'angolino. Face. Molto meglio di così non può servire. Fino al mesco Nishikori aveva vinto il 75% di punti. Da sinistra l'86% sulla prima. Quindi sono percentuali simili al miglior Federer. Secondo Ace. Di nuovo da destra al centro. Sempre in allungo. Altro Ace. Ecco come si fa la sedizione. Con una bella volée alta. 6-1 Federer il primo set in 19 minuti. E' Zverev l'88. Quindi c'è molto margine da una parte e pochissimo dall'altra. Putta scelta. Non è detto che decidi tu poi il punto. E questo dimostra un po' la confusione che ha Zverev in questo momento sulle scelte da fare. Questo è il colpo che ha un po' sorpreso Murray. Fare di polso. Quasi senza preparazione. Buona. Qui ha giocato bene. Aveva risposta anche bene. Federer riesce lo stesso. Con poco tempo a disposizione a piazzarsi e a giocare il colpo senza dare la sensazione che avesse fretta. Sì è una reattività impressionante. L'hai visto Federer quando si allena con Paganini? Con le palle. I riflessi che ha sono impressionanti. Paganini è il suo preparatore atletico. Ha sbagliato. Chiede il challenge Federer. Credo abbia torto anche in questa circostanza. No, invece è buona e quindi si chiude il game. Uno pari. Ha nei riflessi. Insomma, sono abbastanza leggendarie le cose che faceva sin da piccolo Federer in allenamento. Piuttosto che sulla sua sinistra dove c'era scritto qualcosa e lui doveva leggere quello che c'era scritto mentre finiva il movimento in modo che la testa restasse ferma. Tanto bellissima chiusura a rete. Molto bravo. Bellissima vole di rovescio. 0-30. Oh! E sbaglia anche perché è inciampato Federer. Eh sì. 0-40. Le prime palle break per Zverev. Federer che ha cercato con il contropiede di sorprendere più e più volte Zverev che ha mirato al corpo e qui è stato veramente fortunato. Gran risposta di rovescio. C'è il break. 8 punti a 0 Zverev. 3-1. Risposta vincente. Di giocata, quando sei giovane non la provi spesso perché sei piccolo e quindi... Chiude alla fine Federer che poteva giocare meglio sia il primo passante... fatto bene a tirare al corpo per evitare di complicarsi la vita. Contro break 3-2. Molto sì. Salta chiude la vole alta di rovescio. 40-30. Che bello. Eh stupendo. Attacco profondissimo da parte di Federer. Tre pari. Sulla diagonale di dritto ha proprio veramente soffocato Zverev a un certo punto prendendo anche la riga. Che bravo. Gran coordinazione sullo smash. 15-0. Eh sì, si è arrampicato sulla palla. Per chiudere il punto la può avere Zverev. Il problema è che si gioca sempre nelle stringhe. Ecco quello che intendevo sul... A palla corta piuttosto che sulla demi-vole stoppata. Federer parte già da vicino, poi arriva, ti finta in lungo linea, tu non sai da che parte andare e poi ti gioca dall'altra parte. Esatto. Ehi, sì, il secondo di Zverev del tempo. 30-0. Eh sì, e questo... Cambia questa volta direzione della... Perfetto. 15-0. Eh sì, molto più reattivo rispetto al primo set, sicuramente Sve... Tocca la riga. Federer dà una lunga occhiata al segno. Servito in maniera precisissima. Riga interna e poi dritto vincente. 30 pari. Segno anche lui, ma... Purtroppo ci sono alcuni punti... Che devi riuscire a giocare in un certo modo per crearti un'opportunità. Questa volta ha risposto alto Federer e Zverev non è riuscito a essere... Di nuovo, lo infila, c'è il break a zero, è il quarto break subito dal giocatore tedesco. Federer servirà per il secondo set dopo il cambio di campo. Beccato. È larga, secondo me. Certo, il ball è in questa linea, il ball è scoperto. No, forse è buona. Toccato. È due su tre con i challenge Federer. 30 a zero. Ehi, questa è la sua risposta, in lungo linea, non può rispondere in diagonale. Tex Will. Bravo. Ah, bella. Venuto avanti in silenzio e chiude la voletta all'altra parte. 40 a 30. 40 a 30. Anche questo bec, era un signor bec, guarda cosa ha fatto Federer. E da dove ha giocato la voletta. Ne ha fatto giocare due colpi molto complicati. Se ne va la risposta. Ha avuto una piccola chance verev oltre al break sul 5 a 4 a 30. Si va velocissimi, anche ai cambi di campo. Risposta vincente di Federer, 0-3. Così, è difficile. Molto più facile giocare l'obb mentre indietreggi. Passante di rovescio, diventa l'undicesimo così di Federer, in lungo linea, leggermente deviato dal nastro. E palla break. Ottima prima volé. Parità. 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 Sì. Con la vola di dritto, era indeciso sulla prima se giocare la di dritto. Veloce, perché insomma, movimento breve, soprattutto in lungo linea. Uno pari. Un momento col fratello, si rendeva conto comunque di giocarsela e quindi ha detto, ma se me la gioco con lui, forse è il caso di provare veramente. Certo. Tra l'altro ha subito un'operazione anche difficile da ricoperare al polso due anni fa. Mi sta facendo venire mal di schiena. Finali femminili. Una, si conosce già chi sarà in campo, ovvero un derby statunitense tra Croco Van de Veeghe e Venus Williams. 0-15. Venus che è tornata insieme a Melbourne a 15 anni di distanza dall'ultima volta. Ace. Buona. Buona. Bravo. Pochi al mondo riescono a farlo. Due pari. Viene infilato da un altro passante di rovescio. Paziente Federer in questa circostanza. Sì, due vuole complicate e poi c'è veramente poco spazio da quella parte, ma con eleganza la trova. Altro passante perfetto. Doveva chiudersi con un vincente perché è stato troppo bello. E poi infila il passante. Rende complicato anche per Zvere stare vicino alla rete. Non sai mai dove andare. Guarda lì. Tre punti uno più bello dell'altro. Il colpo più bello per me rimane il lob da sotto la rete a scavalcare Zvere perché aveva pochissimo campo a disposizione per farlo restare. Dentro dal rettangolo c'è il break. Fatto quattro finte prima di colpire il dritto verso sinistra. Eccola qua la Sabra. Non avevamo più vito e è ricomparsa. Sì, buona. Infila il passante. E poi quando arrivi così bene sulla palla ti concedi l'opzione di poter scegliere dove indirizzare il passante. Perché se arrivi meno bene diventa impossibile giocare in lungo linea su quella palla. E alla fine passa Federer. Seconda possibilità del 5 a 2. E' sotto al 45% di punti. E sembra fatti. Ha giocato più passanti in questo game. Altro ace. Rispondere come posizione di Zverev. Al servizio e poi arriva un altro passante. 15-0. Fa di fretta. Buona risposta. Tre punti vinti da Federer nel game con tre ace. Finisce così. Roger Federer è in semifinale all'Australian Open. Giocherà dopo domani la sua 41esima semifinale in un torneo del grande slam. La tredicesima a Melbourne. 6-1, 7-5, 6-2. Amisha Zverev. Ci aspettavamo una partita a senso unico. Zverev è riuscito a fare qualcosina nel secondo set. Ma un Federer troppo perfetto in tutto. Nei passanti è stato eccezionale. E ora il suo amico Wawrinka. Wawrinka.